Caltanissetta festeggia San Michele Arcangelo, processione serale nel segno di una profonda devozione. Itinerari di identità Kiss Uddeus, Caltanissetta e il suo protettore San Michele Arcangelo, conferenza con la storica Rosanna Zaffuto Rovello. Caltanissetta, via gentile, disagi tra anziani e altre persone con difficoltà a camminare per un ascensore che non funziona da più di ben sei mesi. Aspiranti imprenditori, Union Camere lancia la piattaforma per quando voglio mettersi in proprio. Bentrovati. Caltanissetta festeggia San Michele Arcangelo, processione serale nel segno di una profonda devozione. Oggi Caltanissetta celebra la festa di San Michele Arcangelo e il suo santo patrono. I festeggiamenti sono iniziati all'alba con il suono dei colpi di cannone, sono continuati con la tradizionale messa pontificale in cattedrale e al calore del sole il simulacro di San Michele Arcangelo viene portato in processione per le strade della città. Il grido festoso di egridammo tutti, viva luprincipi San Michele Arcangelo, accompagnato dai devoti portatori. I bambini indossano il costume del santo e precedono la suggestiva processione, seguiti dalla banda musicale e dalla partecipazione appassionata di tutta la comunità, compresse le autorità civili e religiose. Dopo 15 anni che porto il santo padrono, quest'anno ho il privilegio e l'onore di fare parte del Consiglio. Insieme al Presidente volevamo ringraziare tutti i nostri concittadini che con un piccolo contributo quest'anno hanno fatto in modo che possiamo portare delle piccole novità in modo tale da poter dare anche un segno di, oltre le tradizioni che San Michele ci abbiamo e manteniamo, un piccolo segno di qualcosa di futuristico. Spero che questo piccolo segno oggi possa, come dire, possa far piacere ad ognuno di voi. Vi promettiamo e cercheremo di fare sempre del nostro meglio per far sì che la festa del santo padrono sia sempre più voluta e soprattutto sendita. Itinerari d'identità Kiss Ut Deus, Caltanissetta e il suo protettore San Michele Arcangelo, conferenza con la storica d'arte Rosanna Zaffuto Rovello. Alla sala espositiva del Levale, l'Associazione Giovedì Santo nell'ambito del progetto Caltanissetta Itinerari d'identità ha presentato il convegno Kiss Ut Deus, Caltanissetta e il suo patrono San Michele. La conferenza è stata curata dalla professoressa Rosanna Zaffuto Rovello. Questa devozione precede... Caltanissetta, Via Gentile, disagi tra anziani e altre persone con difficoltà a camminare per un ascensore che non funziona da mesi in un palazzo a sei piani dell'Istituto Autonomo delle Case Popolari. Un massiccio numero di residenti in Via Gentile Civico 2A lamentano il fatto che in uno dei palazzi IACP, già denominate case parcheggi al momento dell'assegnazione degli anni Ottanta, che conta sei piani, da alcuni mesi non funziona l'ascensore, a quanto pare per problemi condominiali. Nel palazzo in questione abitano famiglie con anziani, con difficoltà a deambulare, che da molti mesi non escono da casa perché non riescono a scendere e soprattutto a salire, e quindi non possono provvedere a esigenze personali e spesso di salute. Ne abbiamo parlato con il direttore dell'Istituto Autonomo Case Popolari Antonino Mameli e il sindaco Roberto Gambino. Conosciamo benissimo la situazione in Via Gentile 2A. L'abbiamo presa in mano la situazione perché c'era stato segnalato questo problema legato alla difficoltà a deambulare per qualcuno che abitava ai piani alti a causa del blocco dell'ascensore. Per venire incontro a coloro i quali hanno difficoltà a salire le scale, l'Istituto si è fatto promotore di anticipare le somme condominali che in questi giorni, la settimana scorsa, penso all'inizio di questa settimana, sono stati già versati alla nuova amministratrice che ha il compito adesso di ricostituire tutto il meccanismo della costituzione intanto del condominio e poi della somministrazione dei servizi. Riguardo l'ascensore, l'ascensore non può partire immediatamente perché il primo step era quello di risolvere il problema dell'energia elettrica. Stiamo andando avanti per step, quindi i condomini sanno benissimo di questa situazione, ritengo che nel giro di qualche mese, perché non sono situazioni che si possono risolvere dall'oggi al domani. Noi, la notizia la sto venendo a conoscenza adesso, noi possiamo stimolare sia gli ACP ma soprattutto il condominio perché essendo un edificio condominiale il comune non può fare assolutamente nulla, è una proprietà privata a tutti gli effetti, anche la parte degli ACP, però sicuramente mi interesserò nei confronti del condominio e degli ACP affinché venga riparato all'ascensore, non si capisce perché tutto questo periodo di fermo, ho appreso che ci sono persone anziane, malate, disabili, quindi veramente il problema è grosso. Ci attiveremo noi nei confronti dei legittimi proprietari, possiamo fare soltanto questo. Aspiranti imprenditori, Union Camere lancia la piattaforma per quando vogliono mettersi in proprio. Per tutti gli aspiranti imprenditori, Union Camere lancia la piattaforma delle camere di commercio denominata Servizio Nuove Imprese. In Italia sono almeno 300.000 le persone che ogni anno decidono di mettersi in proprio, dando vita a una nuova impresa. Un numero che potrebbe anche essere maggiore se gli aspiranti imprenditori potessero accedere facilmente a un servizio di supporto e orientamento adeguato alle proprie necessità. Proprio per rispondere a questa esigenza nasce la piattaforma delle camere di commercio, denominata Servizio Nuove Imprese. Realizzata da Union Camere, la nuova piattaforma si pone da guida per gli aspiranti imprenditori, sia con servizi online che con attività dal vivo, proprio per rispondere al meglio a tutte le esigenze degli utenti. Sul Servizio Nuove Imprese è possibile reperire tutte le informazioni sugli sportelli territoriali presenti nelle camere di commercio. Inoltre saranno disponibili, fino a fine marzo prossimo, 18 seminari di prima sensibilizzazione, informazione e orientamento e 12 attività di informazione di tipo specialistico relativo ad attività dove esistono normative di settore, quali l'impresa femminile, i migranti, le start-up innovative e le imprese sociali. A queste attività si affiancheranno colloqui di primo orientamento e informazione, in merito allo specifico percorso imprenditoriale che si intende intraprendere, ed anche colloqui di approfondimento più tecnici, con l'esperto risponde, tenuti da esperti camerali dei diversi settori. Sul portale Servizio Nuove Imprese sono stati messi a disposizione anche due test di autovalutazione, Delfi, che consente all'utente di avere una misura delle proprie attitudini imprenditoriali, e Ulisse, che permette di stimare i livelli e i fattori di rischio dell'attività che si è in mente di creare. A Palazzo d'Orleans l'assessore all'istruzione Mimmo Turano, il direttore dell'ufficio scolastico regionale Giuseppe Pierro e Paola Concia, del comitato organizzatore, hanno illustrato la seconda edizione dell'evento rivolto al mondo della scuola, dell'università, della formazione e della ricerca scientifica, in programma a Mister Bianco in provincia di Catania dal 12 al 14 ottobre. Didacchita è la nuova scuola del futuro, le nuove tecniche di istruzione, le nuove metodologie, l'intelligenza artificiale, le aule immersive, tutto quello che oggi entrando in una scuola un alunno e un insegnante vorrebbe vedere. La nostra scommessa è ammodernare gli istituti, coinvolgere i docenti, fare capire come cambia la scuola, rendere le nuove metodologie applicabili a tutti e far conoscere ai ragazzi che le scuole non hanno soltanto una funzione didacta, ma hanno anche una funzione educativa, sociale. Apriremo le scuole durante tutto l'anno e non soltanto durante l'orario delle lezioni. Sono felicissima di essere qui e di organizzare per il secondo anno come Didacta Italia l'edizione siciliana. Ci dobbiamo aspettare che Didacta è praticamente raddoppiata. Ci sono il doppio degli spazi, il doppio degli eventi formativi, il doppio delle aziende e quindi sarà un evento, l'anno scorso è stato un grandissimo evento. Quest'anno ci auguriamo che i docenti e i dirigenti scolastici vengano ancora di più perché c'è una maggiore offerta. Tre giorni pieni di scuola, questa è la cosa bella, saranno tre giorni incentrati sulla formazione per il personale scolastico. Al centro sarà poi la bellezza di vedere come si fa a scuola, partendo proprio dagli insegnanti e dalla loro voglia di mettersi sempre in gioco, formandosi e migliorando le proprie competenze professionali. Regione, 6,7 milioni di euro per gli istituti tecnici superiori. Stanziamento per avviare il nuovo piano dell'offerta formativa. Sono stati stanziati 6,7 milioni di euro per avviare il nuovo piano dell'offerta formativa degli 11 istituti tecnici superiori in Sicilia per il Biennio 2023-2025. La Regione ha pubblicato sul sito del Dipartimento dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio, l'avviso rivolto alle fondazioni istituti tecnici superiori, istituti di eccellenza ad alta specializzazione tecnologica, per realizzare percorsi formativi biennali per il conseguimento del diploma di tecnico superiore e per creare un catalogo dell'offerta coerente con la programmazione triennale regionale e con la strategia regionale dell'innovazione per la specializzazione intelligente. Ogni nuova possibilità di investimento nel sistema equivale a una nuova occasione per i nostri giovani, ha dichiarato l'assessore regionale all'istruzione e alla formazione professionale Mimmo Turano. L'avviso intende rafforzare l'offerta di istruzione terziaria non universitaria al fine di potenziare nuove ed elevate competenze tecniche e tecnologiche in linea con i fabbisogni delle imprese, contribuendo alla promozione dei processi di innovazione connessi allo sviluppo del territorio regionale, favorendo i processi di trasferimento tecnologico e di transizione verde e digitale. Ampliare la formazione professionalizzante degli istituti tecnici superiori Academy con elevate competenze tecnologiche e tecnico-professionali consente di contribuire allo sviluppo economico e alla competitività del sistema produttivo, colmando progressivamente la mancata corrispondenza tra domande e offerta di competenze. I percorsi formativi si rivolgono a residenti o domiciliati in Sicilia, occupati o disoccupati, in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di un diploma quadriennale. Gli istituti tecnici superiori sono fondazioni di partecipazione dotate di autonomia statutaria, didattica, di ricerca, organizzativa, amministrativa e finanziaria, nate attraverso un sistema che mette in rete istituti scolastici superiori, imprese, università, centri di ricerca ed enti locali con la possibile partecipazione di soggetti privati ed aziende. Le fondazioni operano nel rispetto degli indirizzi della programmazione regionale e degli standard definiti a livello nazionale. Inoltre le fondazioni siciliane sono 11. Le risorse pubbliche stanziate ammontano a 6.738.633 euro. I soggetti proponenti dovranno concorrere alla copertura del costo del progetto per il 10% e inviare la domanda entro il prossimo 18 ottobre all'indirizzo pec.dipartimento.istruzione.regione.sicilia.it Rischi idrogeologici dopo gli incendi degli ultimi mesi. La Regione richiama gli enti territoriali all'osservanza della direttiva emanata dall'autorità del bacino lo scorso anno con le disposizioni per garantire la funzionalità di fiumi e torrenti. Gli incendi che hanno colpito la Sicilia in questi mesi, oltre a devastare il territorio, potrebbero avere conseguenze anche dal punto di vista del rischio idrogeologico, soprattutto per la tenuta dei corsi d'acqua. Per questo motivo la Regione siciliana richiama gli enti territoriali competenti all'osservanza della direttiva emanata dall'autorità di bacino lo scorso anno con le disposizioni per garantire la funzionalità di fiumi e torrenti dopo i roghi. C'è il rischio che tronchi, massi e altri materiali trascinati a valle possano causare ostruzioni ed una minore capacità di ricezione delle acque piovane e quindi alle prime piogge si potrebbero verificare devastanti colate di fango. Il provvedimento dell'autorità di bacino traccia una serie di raccomandazioni alle quali i vari enti ed amministrazioni locali dovranno attenersi, ad esempio difendere il territorio agendo contro la corrosione dei corsi d'acqua, effettuare la delimitazione delle aree interessate dagli incendi e lo sgombero dei rifiuti abbandonati al ridosso dei letti dei fiumi, individuare i tratti di viabilità ricadenti impropriamente nei letti dei corsi d'acqua ed effettuare un'azione di vigilanza, soprattutto in caso di allerta meteo, per impedire l'utilizzo di guadi e attraversamenti abusivi, piste o varchi nei muri d'argine, anche rimuovendo tutto ciò che possa indurre a transitare. Viene sottolineata l'importanza della manutenzione dei canali, si deve quindi provvedere ad eliminare qualsiasi ostacolo a regolare il deflusso delle acque. Quando verranno pubblicati i bollettini che annunciano all'erte meteo, i comuni dovranno attivare le procedure di protezione civile. Per quanto riguarda gli attraversamenti, la direttiva indica che occorre garantire sempre la sezione fluviale originaria, prevista dal progetto di realizzazione dell'opera, con l'obbligo per gli enti proprietari di provvedere alla relativa manutenzione. I siti interessati da incendi, infine, devono essere bonificati e occorre verificare l'eventuale contaminazione delle falde acquifere. Il rispetto di tutte queste disposizioni dovrebbe limitare il rischio idrogeologico causato dagli ultimi incendi. Nei giorni scorsi i carabinieri del primo reggimento paracadutisti Tuscania sono atterrati all'interno di una delle meraviglie d'Italia, la Valle dei Templi. La violancio della sezione di paracadutismo sportivo dell'arma per Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025 è stato salutato con applausi dalla folla. Il video, pubblicato sulla piattaforma YouTube dei militari dell'arma e di Andrea Banadia. Grazie a tutti! A presto! Caltanissetta, tradizioni romene e siciliane, scambio culturale con esposizione di prodotti tipici. Nel corso dei giorni 30 settembre e 1 ottobre 2023 in piazza Garibaldi a Caltanissetta avrà luogo un evento di condivisione e valorizzazione delle tradizioni, dei costumi, della gastronomia e dell'artigianato delle culture romene e siciliane. Saranno organizzate diverse attività, incluso un'esposizione di prodotti tipici provenienti dalle rispettive regioni, consentendo ai partecipanti di scoprire e apprezzare le diverse peculiarità e le ricchezze culturali di entrambe le comunità. Obiettivo dell'evento è di promuovere l'interscambio culturale, favorire la comprensione reciproca e celebrare la diversità culturale in un'atmosfera di festa e inclusione, Al fine di garantire la sicurezza e il successo dell'evento, al quale è prevista una significativa partecipazione di pubblico, sarà necessario sospendere la circolazione veicolare in piazza Garibaldi nel tratto compreso tra via Camillo Genovese e Corso Vittorio Emanuele. La sospensione della circolazione veicolare fatta eccezione per gli autobus urbani, mezzi di polizia e di soccorso in piazza Garibaldi nel tratto tra via Camillo Genovese e Corso Vittorio Emanuele avverrà nei giorni, sabato 30 settembre 2023 a partire dalle ore 17 e comunque fino a cessate esigenze, domenica 1 ottobre 2023 a partire dalle ore 18 e comunque fino a cessate esigenze. Calcio Serie D, domenica San Cataldese-Licata, fischio d'inizio alle ore 15. La quinta giornata propone anche Acalagas-Trapani e Reggio Calabria-Siracusa. La San Cataldese si appresta a fare gli onori di casa con Illicata che domenica prossima, primo ottobre alle 15, si presenterà nel salotto del Valentino Mazzola. Le due squadre si incontreranno a margine del primo mese di torneo diametralmente opposto. Nel frattempo la società Verdamaranto, attraverso una nota, ha comunicato che saranno i 150 posti disponibili per i tifosi ospiti che partiranno in direzione San Cataldo. La decisione è stata notificata dopo il tavolo tecnico che si è tenuto alla questura di Caltanissetta, dove è stato deciso che i biglietti saranno venduti soltanto all'interno della provincia di Agrigento. Intanto in casa Verdamaranto la vittoria in trasferta con il Portici e la conferma di Sclafani come allenatore hanno riacceso l'entusiasmo della piazza, anestetizzato da un inizio shock. La quinta giornata del girone I di Serie D regalerà un altro derby di Sicilia molto atteso da due piazze storiche del calcio siciliano come Acragas e Trapani, di fronte alla squadra grigentina neopromossa e il sudalizio Granata con velleità di promozione. Il calcio d'inizio è previsto sempre domenica allo stadio a Seneto di Agrigento alle 15.30. Questo il programma della quinta giornata di Serie D girone I. Domenica 1 ottobre alle ore 15 Canicattì, città di Sant'Agata, città di Acireale, San Luca, Fenicia-Maranto, Siracusa Calcio, Locri 1909, Gioiese 1918, Nuovegia Virtus Portici, Real Casalnovo Ragusa Calcio, San Cataldese Licata Calcio, Vibonese Castrovillari, chiude il posticipo alle ore 15.30 Acragas-Trapani. Gli altri impegni delle squadre nissene. In eccellenza nel girone A sabato alle 16 Profavara-Nissa-Ravanusa, domenica alle 15.30 Ionica-Gela. In promozione girone C sabato alle ore 15.30 Caggi-Real-Suttano. Calcio a 5, Caltanissetta-Socer-San Nicolò, domenica alle 11 al Palamilan. Il Caltanissetta-Socer è pronto ad esordire in casa nella seconda giornata di campionato di calcio a 5, dove gli uomini guidati dal mister Pari de Puzzanghera affronteranno domenica alle ore 11 al Palamilan il San Nicolò Fuzzal. Dopo la sconvitta, subita la prima giornata a San Giovanni Lapunda per 7 a 6 dai padroni di casa dell'Arcobaleno, la formazione nissena chiede aiuto al suo pubblico per cercare la prima vittoria stagionale e dimenticare la prima giornata. A Caltanissetta arriva una squadra galvanizzata dalla vittoria contro la polisportiva Nicosia e cercherà il secondo sigillo contro la combagine nissena. Il Caltanissetta-Socer, nonostante la sconvitta, non ha demeritato contro l'Arcobaleno, venendo sconvitta solo negli ultimi minuti e dopo aver combattuto testa a testa per tutta la partita. Puzzanghera cercherà di far ripartire i suoi uomini con la stessa determinazione vista a San Giovanni Lapunta, cercando di limare alcuni errori e provare a vincere la partita. Calcio a 5, Serie C2, Girone C, seconda giornata. Next Level, Nicosia-Fuzzal. Polisportiva Nicosia-Pedara. Fulgentissima-Argirium. Città di Canicattì-Agrigento-Fuzzal. Caltanissetta-Socer-San Nicolò. Fuzzal-Acireale-Arcobaleno. Volle i femminili, Serie B2, Albaverde-Caltanissetta. Allenamento congiunto con il Modica. Le nissene preparano l'esordio stagionale previsto al Palacanizzaro per domenica 8 ottobre. È stato un prestigioso assaggio di campionato, quello svolto mercoledì pomeriggio al Palacanizzaro tra l'Albaverde e il Modica. Le pallavoliste nissene continuano la loro preparazione in vista del prossimo campionato agonistico che aprirà i battenti domenica 8 ottobre e che vedrà la squadra allenata da Marco Relato affrontare tra le mura amiche il Vibo Valencia dell'ex Miglia Bruti. Il Modica, secondo alcuni addetti ai lavori, risulta essere la formazione più accreditata per il salto in B1, inserita nel girone L dove militerà anche l'Albaverde. L'allenamento con il Modica ha dato l'opportunità a Marco Relato di vedere all'opera tutte le atlete a sua disposizione che daranno vita a un sestetto profondamente rinnovato con ben 7 volti nuovi. Per il tecnico friulano tante sono state le indicazioni al termine di una gara a tratti ben giocata da entrambe le formazioni e sicuramente sono tanti i margini di miglioramento di un sestetto ancora imballato da una pesante preparazione fisica e dove schemi e dinamiche difensive sono da perfezionare alla ricerca dell'affiatamento tra i reparti e le stesse giocatrici. L'incontro con il Modica è stato anche la prima occasione per vedere all'opera la giovanissima Giada Musumeci, nuovo acquisto in casa Albaverde. Infatti oltre alle riconfermate spena alla mattina ad Antoni e Zaffuto e alle nuove entrate Moneta, Mastronardi, Minervini, Monzio Compagnoni, Conti e Giannone è scesa in gambo anche l'ultima arrivata. Giada Musumeci è una schiacciatrice classe 2003 che ha iniziato la sua giovane carriera nelle file della Javi Pedara per poi nel Planet Pedara dove è esordito in Serie B2. Le successivi due campionate ha militato in B1 nelle file della pallavolo Catania e del team Volley Catania per poi trovare la prima vera consacrazione lo scorso campionato di B2 mostrandosi tra le più propositive nella bella stagione del Cus Catania. Saranno 14 le formazioni inserite nel girone L pronte ai nastri di partenza. Ecco la prima giornata di campionato del prossimo fine settimana. Albaverde Todomodo, Funivia Etna Paola, Palermo Bricositi, Cus Catania Volley Palermo, Saracena Volley Region, Catania Volley San Lucido, Modica Gioiosa. E' tutto, vi lascio al meteo e alle notizie di pubblica utilità. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con la nostra programmazione. Ben trovati da Nico Schiodetto. Tendenza per la giornata di sabato. Sarà un fine settimana con l'alta pressione del Nord Africa su tutta l'Europa centrale, distesa appunto dall'entroterra sariano verso la Spagna, la Francia, la Germania, con temperature oltre la media stagionale, ma interesserà anche l'Italia. Solo all'estremo sud un po' di variabilità pomeridiana con sporadici temporali sull'Appennino. Altrove c'è di segno poco numerosi. Nel dettaglio zoom precipitazioni possiamo notare appunto questi locali fenomeni che interesseranno i rilievi della Calabria, la Sicilia centro-orientale, altrove assenza di piogge. In sintesi la mappa dell'Italia in simboli che ci evidenzia una bella giornata soleggiata quasi ovunque, locali temporali sull'Alto Adige, Calabria, Sicilia orientale, temperature ferragostane tra i 25 e i 30 gradi su tutto lo stivale. Dettagli maggiori e approfondimenti scaricando l'app gratuita di Trabi Meteo. Servizi di pubblica utilità Farmacie di turno, Caltanissetta Servizio diurno, Pasqualino Via Xiboli, Villaggio Santa Barbara Servizio notturno, La China Via Fraggia Ratana